Mi chiede un'invitazione a un'intera comunità dominicana residente in Aruba per partecipare nella nostra offrenda florale con il giorno di commemorazione del 75 anniversario dell'independenza nazionale della Repubblica Dominicana. Sì, qui lo tomano il luogo nella plazza Juan Pablo Duarte e noi stiamo ponendo un'offrenda nel busto di Juan Pablo Duarte in anno e noi stiamo in un'ora di nuovo in Maintia e per sei ore e meia tardi noi stiamo in un'hotel Rio Palace nel Salon Ryan Stad, 46 ore e meia tardi e noi stiamo iniziando a rio e per commemorare il 75 anniversario dell'independenza della Repubblica Dominicana. Come si tratta da florale per l'ultima rio? Come si tratta da sfruttare i miei diari? È attività più nel Rio, è attività culturale e per portare a chi non ha lotto un brindis e tanto a consulato non mi comprende e noi stiamo in un'appellazione anche alla comunità per apoiare la Fondazione Dominicana e qui la Fondazione non c'è tratta da comunità e non c'è nessun sponsor o patrocinatore che sta sponsorando la Fondazione perché ci sono stati anche i 25 anni per l'usine che ci pagano la corsa e i luci e noi stiamo iniziando a prendere qualcosa di più e noi stiamo iniziando a prendere e ci sono stati iniziando a prendere la Repubblica Dominicana perché i nostri ricursi non sono limitati. Ci sono invitati a un viaggio più comunitario dominicano e il tutto il popolo di Aruba per partecipare in una offerta floral tantissima, come in ordine di stare a 6 ore e mei nel Hotel Rio. Ci sono diversi invitati a mea notte qui, alcuni mandatari non sono presenti e ho confermato con cui non lutei. E il gruppo folclorico e culturale dominicano per la signora Ramona Cambo García tutta il direttore del gruppo folclorico e noi stiamo lutei differenti cantanti nel dominicano per partecipare con la residenza di Aruba e per partecipare anche nella Noce Cultura. Un bel massimo e un milione di tanti nel Bosnano e il pubblico è presente per Polbini e Noce.